Il 20 giugno si torna in campo, la Serie A riparte dai recuperi. Si giocherà 7 giorni su 7 dal pomeriggio fino alla notte. La Serie A che ripartirà il 20 giugno deve contenere 124 partite in 43 giorni, comprensivi di 6 sabati e 7 domeniche. Per chiudere, il 2 agosto sarà Torino-Parma alle 19.30 di sabato 20 a segnare la ripartenza. Seguirà Verona-Cagliari alle 21.45, mentre domenica 21 il quadro dei recuperi del 25esimo turno si completerà. Con Atalanta-Sassuolo alle 19.30 e Inter-Sampdoria alle 21.45. Negli ultimi giorni ha destato particolare polemica la questione relativa alla possibilità di cristallizzare la classifica in caso di stop definitivo. La FIGC deciderà in base a un numero maggiore di voci, tutte però relative al merito sportivo. Si parla di media punti partita, differenza a casa trasferta, calendario che manca alla fine, ad esempio se una squadra deve giocare ancora con le prime tre della classifica, poi differenza a reti, gol fatti e anche la distanza dal traguardo, ovvero interrompere a sei giornate dalla fine un conto a due e un altro. Ecco perché nel prossimo Consiglio federale dell'8 giugno dovranno essere definite tutte queste regole. In merito al campionato di Lega Pro affiorano le prime ipotesi per la ripresa. Coppa Italia il 28 giugno e i play-off dal 5 luglio al 16 agosto. Ricordiamo che il criterio dovrebbe essere facoltativo per le società che potranno scegliere di partecipare o meno alla bagarre per la definizione della quarta promossa in Serie B. Oggettivamente questo criterio, per quanto strano e particolare sentiamo di condividerlo, una società poco propensa o non convinta di cercare il salto nel froneo cadetto ha tutte le ragioni di non voler riattivare tutta la macchina organizzativa, richiamare i giocatori, organizzare allenamenti e trasferte, tutto per una sola gara. A tal proposito, la Carrarese sembra pronta a rispondere presente, Pontedera e Siena sono indecise, mentre l'Arezzo al contrario ha già annunciato il suo no definitivo. I play-off su base volontaria per assegnare la quarta promozione in B dividono le società di Lega Pro, anche perché secondo una stima costano, per il rispetto dei protocolli sanitari, almeno 40-45 mila euro al mese. In Serie D manca una settimana esatta al Consiglio federale, dal quale dipenderà il futuro di molti club e per certi versi anche di gran parte del calcio italiano. Come detto più volte, le prime in classifica, al momento della sospensione, Lucchese, Prosesto, Campo d'Arsego, Mantua, Grosseto, Turris, Matelica, Bitonto e Palermo, attendono solo la ratifica per poter festeggiare la Serie C. La Lega Nazionale di Lettanti ha proposto la retrocessione di 36 club, di fatto le ultime quattro di tutti i raggruppamenti, come ad esempio nel girone F, quello delle Molisane, Iesina, Chieti, Avezzano e San Giustese. Poi ci sarà da valutare se e come saranno effettuati i rivescaggi dalla Serie D delle squadre seconde nei vari gironi, oppure di quelle con pagine societarie in grado di offrire delle garanzie economiche, ma anche strutturali, per poter affrontare la terza serie, il caso del Campobasso e del Foggia per intenderci. Poi la situazione delle retrocessi a tavolino, 31 dei 36 club chiamati in causa hanno costituito un comitato chiamato Salviamoci, annunciando battaglie legali per far valere i propri diritti. Insomma, in definitiva, sia in terza che in quarta serie ci sono ancora tanti punti interrogativi, diverse risposte ci saranno tra meno di una settimana nello stato maggiore della FIGC. Sicuramente la prospettiva per la società di Serie D che sperano nel ripescaggio, ovviamente Campobasso incluso, si preannuncia un'estate davvero lunga. In attesa della conclusione della Lega Pro, prevista per metà agosto, una revisione dei nuovi organici sarà a settembre temporeggiare e organizzarsi nel migliore dei modi. Questo il Dictat, come ha detto lo stesso patron Mario Gesue, nel corso dell'ultima puntata di Domenica Sport. Durante l'ultima puntata stagionale di Domenica Sport ci siamo collegati in diretta dalla Romania con Gigi Ciarlantini, ex giocatore del Campobasso dall'81 all'85. Oggi vice allenatore dell'Università di Craiova. Allora, tu sei in questo momento in Romania perché come secondo di Bergodi state allenando una squadra rumena. Sì, siamo qui all'Università Craiova, è una squadra di prima liga e stiamo aspettando che stiamo facendo la preparazione come in Italia, ecco, perché il 13-14 di giugno riprende il campionato che qui mancano per il play-off, otto giornate ancora da giocare per terminare. Sicuramente. Tu arrivasti al Campobasso dal Forlì, però insomma la proprietà del tuo cartellino era della Roma. Hai giocato con la maglia rosso-blu dall'81 all'85, 123 partite con 9 gol. Il più importante dei quali, secondo me, fu quello di Reggio Calabria, perché vincemmo 1-0. in casa della regina ci presero a pietrate, se ti ricordi, dovremmo scappare dallo stadio Granillo di Reggio Calabria, però insomma fu quello il gol che probabilmente ci convince che potevamo vincere il campionato. Credo di sì, anche perché la regina veniva da tutte le vittorie in casa ed era in lotta. E quindi insomma fu quello, poi ne hai fatti altri otto con la maglia rosso-blu, poi andasti al Pescara, dove hai vinto anche il campionato di Serie B, giusto? Sì, è stata un po' inizio, non si erano messe d'accordo sul prezzo del cartellino. Andai a novembre, la prima stagione è stata sicuramente positiva perché, proprio per il discorso del calcio scommesso, queste cose qui siamo retrocessi, poi con il ripescaggio per il fallimento del Palermo abbiamo fatto una cavalcata incredibile, siamo riusciti a vincere il campionato e quella era sicuramente un'ottima squadra, dove anche Stefano Rebonato che l'anno prima con noi a Campobasso non aveva fatto bene, quell'anno lì fece straceli, insomma fu un capocannoniere senza rigori. Sì, me lo ricordo, a Campobasso fece solo un gol contro il Monza, mi ricordo anche contro chi segnò. Senti, Campobasso, la maglia rosso-blu, che hanno rappresentato per te? Come ho sempre detto, sono rimasto molto attaccato, affezionato al Campobasso, ai colori rosso-blu, rispetto a te, a me, insieme a Raffaele, Marco, Maestri Pieri, Walter, tutti i ragazzi che mi hanno aiutato a crescere, a maturare, sia come giocatore ma anche come uomo. E poi avevamo anche la fortuna di avere una società dove io sarò sempre grato al Presidente Molinari, perché sia con me ma anche con i miei compagni, in quegli anni lì ci ha fatto stare veramente molto molto bene e credo che un po' tutta la cittadinanza, anche il Molise, insomma, quello che ha fatto vedere quella società lì, quella squadra lì, in quegli anni credo che sia stato qualcosa di unico. Va bene, Gigi, ti lascio proprio in conclusione un saluto a tutti i tuoi amici di Campobasso. Io voglio un saluto a tutti i tifosi di Campobasso e fare i complimenti anche alla Presidente della nuova società perché sta organizzando, io mi seguo, anche da lontano, anche dalla Romania, seguo Campobasso e sto vedendo che la società, col Presidente Gesù, mi sembra che si chiama, sta lavorando molto molto bene, sta facendo le cose di noi, il Silvano vi volto che Campobasso possa tornare splendori di quegli anni lì perché secondo me sia la cittadinanza ma anche la Regione lo merito e vi faccio veramente un grande 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 in bocca al lupo per tutto quanto, veramente. Tra giovedì e venerdì Sport e Salute dovrebbe essere in grado di far partire tutti i bonifici rimasti in sospeso per il bonus di marzo ma anche quelli per aprile e maggio che verranno inviati automaticamente senza ulteriori domande, ha spiegato il Ministro delle Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, su Facebook. Il Ministro ha infine precisato che chi non avesse presentato domanda per il mese di marzo, dall'8 giugno potrà fare richiesta per i bonus di aprile e maggio, visto che verrà aperto una nuova finestra sul sito di Sport e Salute. Parliamo adesso di giocatori molisani impegnati in giro per l'Italia. Abbiamo avvicinato l'attaccante di Boiano, Antonio Drini, impegnato con il Cassino. Antonio Drini, centrocampista del Cassino classe 2001 e boianese DOC. Come è andata per te questa stagione in Serie D al Cassino fino al momento dell'interruzione ufficiale? Quest'anno ho avuto il piacere di incontrare persone straordinarie, partendo dallo staff ai dirigenti e ai giocatori. Ho trovato un gruppo unito e motivato a fare sempre meglio. Ho cercato di dare sempre il massimo ai doni di allenamento per cercare di crescere e migliorare, dando particolare attenzione ai consigli dei più esperti. è stata una bella esperienza, considerando il fatto che è stato il mio esordio in Serie D. La Turris è stata promossa in Lega Pro per chiusura anticipata del campionato nel tuo girone. Era davvero la più forte secondo te? La Turris è una squadra ben organizzata. Fin dall'inizio era una delle favorite per la vittoria del campionato e ad oggi si vede promossa in Lega Pro con chiusura anticipata. Nel giro di pochi anni sei passato dal calcio a 5 e militavi infatti nel Cosmo Lise in Serie B, poi hai deciso di passare al calcio. È stato traumatico il cambiamento? Non è stato un cambiamento drastico. Negli anni delle giovanili la squadra con cui ero desterato praticava entrambi gli sport ed era iscritto sia al campionato di calcio che al campionato di calcio a 5. In molti pensano che il futsal vada inserito nei programmi di allenamento delle giovanili in quanto può far sì che migliora la crescita del giocatore in tutte le situazioni di gioco. Con il tempo ho deciso di dedicarmi esclusivamente al calcio a 11 e cercare di crescere il più possibile a livello calcistico ed ho accolto con entusiasmo la richiesta del Cassino. Uno sguardo alle molisane di quarta serie, un giudizio su quanto fatto da Campobasso a Nione e Bastogirardi e se ha auspichi di tornare in Molise, benché a Cassino non sei lontano da casa. Il mio giudizio è pienamente positivo per quanto fatto dalle molisane di quarta serie. Il Campobasso poteva assicurarsi l'elettore del campionato, l'Olimpia annonese era appena in zona playoff e il Bastogirardi era in zona metà classifica e ha disputato un ottimo campionato giocandosela a viso aperto con squadre di alto vertice, nonostante fosse neopromossa in Serie D. Sono delle squadre valide e se dovesse esserci l'occasione mi piacerebbe fare un'esperienza nella mia regione. Calcio regionale. Il team manager dell'Isernia, Iaciancio, ha annunciato le sue dimissioni. La classifica a causa dello stop provocato dall'emergenza sanitaria è stata congelata e i bianco celesti hanno chiuso il campionato a quota 33 punti al centro della graduatoria. Sono ripartite ieri le elezioni al centro sportivo M2 di Campo di Pietra per il settore terra. Abbiamo intervistato Ricciardella. Nicola Ricciardella, responsabile tecnico del settore terra del centro M2 di Campo di Pietra. C'è un duro lavoro dietro, però la struttura è pronta per ripartire il primo giugno. Assolutamente. Siamo pronti con più entusiasmo di prima, con più forza e più volontà e soprattutto con più entusiasmo. Abbiamo seguito tutte le prescrizioni che le mie guida ci hanno dettato. Addirittura abbiamo igienizzato prima di entrare nella struttura, ma come lo facciamo anche prima. La struttura verrà igienizzata sia la mattina che la sera. Ci saranno tutti i dispositivi di protezione individuale, sia per noi istruttori, trainer, ma tutto lo staff di M2 sarà pronto a lavorare in piena sicurezza. Soprattutto, ecco, una cosa che voglio ricordare per tutti i clienti e nuovi lead che arriveranno, di rispettare la norma dei due metri di sicurezza che ormai tanto ambita. E altra cosa importante sarà di indossare una mascherina solo nel momento in cui non si farà esercizio fisico strutturato. Nel momento in cui mi alleno indosserò una mascherina. Nel momento in cui invece passerò da un esercizio a un altro, mi sposterò durante le varie situazioni che succederanno durante l'allenamento, mi potrò spostare con la mascherina. Questa è una cosa importantissima da rispettare. Noi siamo pronti come sempre, abbiamo un planning corsi attivo, anche le sale sono state risposte circa, anzi anche oltre i due metri di sicurezza. Stessa cosa nelle sale cardio e sala pesi, abbiamo tutto sotto controllo in piena sicurezza. Anche per il settore terra, così come quello dell'acqua, ci sarà un percorso ideato proprio per raggiungere i luoghi in cui si terrà l'allenamento? Bravissima, allora il cliente appena arriverà farà una sorta di triaccio, quindi misurazione della temperatura, farà un'igienizzazione in mani e scarpe, compilerà l'autocertificazione o la porterà direttamente già compilata, entrerà e avremo doppio colore, il colore ciano sarà per il settore acqua e Luca già come ha riferito e invece avremo il colore giallo per il settore terra. Sarà proprio veicolato il traffico dei nostri clienti, è tutto pronto e quindi predisposto per raccoglierli in piena sicurezza. Come dicevi tu, il vostro lavoro è stato duro, però aspetta anche al cliente rispettare tutte le norme che ci sono da rispettare, igienizzare tutti gli strumenti che useranno durante la loro attività? Assolutamente. Allora, prima di utilizzare ogni attrezzatura fitness o prodotto fitness andrà disinfettato. Stessa cosa a fine dell'esercizio fatto. Altra cosa importante è che dovranno venire già cambiati i clienti con doppio paio di scarpa, quindi una scarpa per venire al centro e l'altra per utilizzare le aree medite per il settore fitness. Distanza solida di due metri, mascherina indossabile prima dell'esercizio fisico e dopo aver finito l'esercizio fisico e due metri di distanza, quindi questa è una cosa essenziale. Infine, il settore terra comprende la sala pesi ma anche tante attività? Sì, assolutamente. Avremo, torno a ripetere, un planning di 14 ore, un po' ridotto visto anche che non sapremo bene la risposta da parte dei clienti, ma noi comunque partiremo a pieno regime con tutte le attività, quindi tutto ciò che facciamo prima lo facciamo adesso, però in maniera più ridotta. Il nostro motto è sempre Body Mind Food, quindi continuiamo a allenare il corpo, continuiamo a allenare la mente e soprattutto cercheremo di, come sempre, di proiettare il nostro entusiasmo sull'alimentazione, perché è una parte essenziale del mondo del benessere psicofisico. Un'edizione virtuale del torneo di Corpus Domini. La scuola Calcio Acli non ha voluto saltare l'annuale appuntamento con la Kermess internazionale. La società ha coinvolto nell'organizzazione anche i ragazzi. Io di socio della formazione allievi delle Acli Campobasso, non siete potuti scendere in campo per il torneo di Corpus Domini, ma lo avete fatto organizzando questo torneo e-sport. Siete stati anche, diciamo così, voi i promotori, gli ideatori di questa iniziativa, poi subito sposata comunque dallo staff delle Acli. Sì, sicuramente abbiamo dato una mano, però dobbiamo ricordare comunque che questa iniziativa è nata grazie all'impegno del mister Andrea Lupo e anche all'aiuto del mister Michele Colitti. Come vi siete organizzati per questo torneo? Come sta procedendo, insomma? Allora, abbiamo chiesto a tutti coloro della nostra società che avessero una PlayStation 4 e il gioco FIFA 20, di iscriversi appunto a questo torneo. Siamo 28 partecipanti, 4 gironi, quindi 7 squadre per ogni girone. Le prime e due quali classificate accederanno poi ai quarti di finale. Siete riusciti tramite tutta l'organizzazione, insomma, ad entrare in contatto con altri ragazzi della vostra stessa età per l'appunto italiani, ma anche degli Stati Uniti, quindi siete riusciti a organizzare immediatamente anche un torneo internazionale, come da buona tradizione per il torneo di Corpus Domini. Sì, sicuramente è una cosa molto bella che aumenta anche la competitività del torneo in maniera ovviamente positiva. È che il vincitore di questo torneo interno della società delle Acli andrà a sfidare poi altre società, oltre che appunto italiane, anche all'estero, come per esempio la società belga e una statunitense. Veniamo al campo, l'ultimo tuo anno diciamo con la scuola calcio, quindi interrotto, però facciamo un bilancio. Beh, cioè non mi nascondo, è stato comunque un finale che nessuno si aspettava, che va comunque, non intacca ecco la bellissima prima parte di stagione, però lascia un bel po' di amare in bocca per come è finito. E la scuola calcioarli cosa ti ha lasciato? È stata, è una frase fatta, lo so, però è stata veramente una seconda famiglia per me. Mi dispiace veramente che sia finita così e che in generale che sia comunque finita. Domani è programmata la riapertura del campo di atletica leggera Nicola Palladino di Campobasso. A proposito del movimento podistico regionale abbiamo intervistato Della Torre, tesserato con la polisportiva Molise. Bruno Dallatorre, uno dei protagonisti della polisportiva Molise, si sta tornando alla normalità dopo un periodo assai particolare. Come l'hai vissuto non solo dal punto di vista sport? Allora sì, siamo tornati ormai a correre da un paio di settimane, quindi questa è la cosa positiva diciamo. Certo, il campo non è ancora aperto a tutti, quindi ci stiamo adattando un po' come viene. Stiamo andando a correre a Ferrazzano oppure allo stadio. Comunque abbiamo ripreso e questo è l'aspetto più importante. Ecco, allenarsi non sul campo di gara cosa comporta? Beh, per la specialità ad esempio come la velocità o i lanci e i salti è diciamo un po' più difficile perché comunque per strada gli allenamenti sono degli allenamenti tra virgolette mantenitivi ma non sono allenamenti specifici per la velocità o per i salti. Mentre magari per il mezzofondo può essere un po' più ottimale diciamo. Nel recente passato come è stata la tua stagione? Come l'ha giunto? Allora, ero abbastanza soddisfatto nell'inizio di stagione perché ero riuscito a conciliare gli impegni universitari anche con una preparazione invernale discreta e con delle gare ad Ancona, un 60 e un 400, quindi ero abbastanza soddisfatto. E diciamo contavo anche di esordire con delle gare outdoor nel mese di maggio. Il problema è che poi a causa del virus non abbiamo potuto gareggiare e neanche allenarci per un paio di mesi. Quindi adesso è tutto rimandato a settembre, ottobre forse. Il coronavirus ha cambiato le nostre abitudini sia nella vita quotidiana che nello sport. Cosa secondo ti cambierà per quanto riguarda l'atletica leggera? Beh, per quanto riguarda l'atletica è comunque uno sport individuale, quindi tra virgolette siamo un po' più avvantaggiati nella ripresa. Comunque dovranno cambiare alcune cose, alcuni aspetti anche nelle gare. Magari non si potranno più fare gare di mezzo fondo, almeno nell'immediato. O comunque nelle gare di velocità si dovrà correre a distanza maggiore, non più di una corsia, ma comunque con almeno una corsia di scarto tra un avversario e l'altro. Quindi comunque l'aspetto cambierà molto. Però l'importante è comunque ricominciare almeno a correre in gruppo mantenendo le distanze al campo. Cambierà ovviamente anche quello che era il calendario stilato dalla FIDAL? Sì, sicuramente, perché anche i campionati italiani hanno cambiato data, anzi tuttora non si sa la data specifica dei campionati italiani. E quindi forse si gareggerà verso settembre-ottobre, ma è ancora tutto in sé. Diciamo che in un periodo difficile come quello che abbiamo vissuto e diciamo stiamo vivendo, come si trovano gli stimoli per allenarsi? Beh, gli stimoli per allenarsi comunque ognuno di noi li deve trovare dentro se stesso, tra virgolette, perché comunque è stato difficile soprattutto nel periodo in cui eravamo costretti a casa a trovare la motivazione ogni giorno per allenarsi. Però diciamo che poi le soddisfazioni possono magari incentivare l'atleta a continuare ad allenarsi. Quindi magari anche la ripresa delle gare può essere un punto a favore per incentivare appunto gli allenamenti. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio!